Ciao, papà, la blu cerchietto! È finita! Abbiamo battuto l'Inter 2-1, ma da una... Troppo carico, spacco tutto, se mi importa. Incredibile, a Genova, Sampdoria 2, Inter 1. Ragazzi, non ci credevo neanche io, non ci credevo nemmeno io, ma veramente, ma veramente, dopo sette minuti, la realtà. Calcio di rigore inesistente, ovviamente contro di noi. Pallare buttato in mezzo, screener calcio, palla a lato. Vabbè, io poi a un certo punto si d'altro, stava, probabilmente ero facendo un vocale su WhatsApp, ma si capiva bene, tramite, sai che c'era una cosa... Niente, palla con la Salavar, ah, sì, aspetta che vengo a vedere. Da un tocco di Edel Silva la palla rimbalza sulla mano di Torsby, poi va dentro, dove screener calcia, a lato. I calciatori dell'Inter non si sono neanche accorti. Vabbè, fallo di mano col Ciriguard. No, no, perché, perché, no, 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 sì, Audero la paga! E non è gol! Si rimane solo 0-0. Sam continua ad attaccare, poi, occasionissima da noi, calcio di rigore per la Sampdoria. Minchia, ma a me sembra fuori di mezzo chilometro, in effetti era fuori di mezzo chilometro, non so dove cazzo abbiamo fatto a dire rigore. era nettamente al di fuori, ma va benissimo, perché tanto non abbia fatto gol, ma poi c'è stato il rigore, invece, evidente, ed è andato lui. Candreva, io in quel momento ho detto, o Candreva fa il gol dell'ex e adesso diventa l'idolo di tutti i Sampdoriani, oppure si fa odiare da tutti i Sampdoriani sbagliando il rigore. E l'ha fatto! Grande Tonino! Allora, ragazzi, cosa importantissima. Il giocatore della Samp, che ha fatto più assist in questo campionato, Candreva, che non l'ha neanche giocato tutti, con 85 cross. Scusate, non assist, cross. 85, sono veramente tanti. Quelli di più che ne ha fatto nell'Inter, ha Kimi con 50. E anche Kimi le ha giocate tutte. Però, ragazzi, Candreva, ok, sbaglia tantissimo, sbaglia una valanga di cross. Ma quanti ne fa buoni? Oggi era importante, era importante, era importante fare il toccato di gol su rigore! Era gol! Bene così, 1-0. Dai, dai, dai. Carichi, carichi. Damsgrave, un'azione pazzesca dentro per Keita e altro gol dell'ex. 2-0 contro la squadra che, diciamolo, come Rosa, è la più forte d'Italia. Punto. Non ci sono balle, non ci sono cazze e mazze che tengono. L'Inter, come Rosa, è la squadra più forte d'Italia. Punto. Ma noi li abbiamo battuti! Sono sincero. Quando abbiamo preso gol, ho detto, boh, pareggiano. Non vincono, ma pareggiano. Dio, signore, grazie, signore, meno male. Grazie al signore. Ma che signore? Grazie ai ragazzi della Samp. Quanto hanno combattuto! Minchia, ma io me li vedevo oggi a torso nudo, così con i bei pelazzi fuori da tuaggi quant'altro. Vestiti da centurioni, da guerrieri, da gladiatori, con le palle. Finalmente abbiamo giocato con le palle. Bene, ordinati e abbiamo battuto l'Inter, ragazzi. Non l'Inter che giocava con Schelotto, Compagnia Bella, Belfodil e Pisciacane. Ma ragazzi, Lukaku, va bene, non è che ha giocato solo 20 minuti, perché se non sarebbe stata un'altra partita. Però ogni tanto un po' di culo anche noi. Il Genoa pure ha perso l'ultimo minuto. Cosa si può valere di più? Ragazzi, io sono veramente carico in una maniera... Andrei a fare 20 km di corsa, ma non ce l'ho voglia, sono troppo pigro. Quindi me la faccio andare bene così! Allora, ragazzi, importantissimo. Oltre al solito iscrivervi al nostro canale YouTube, importantissimo. Seguirci anche su Twitch quando facciamo le live, perché succedono cose dell'altro mondo. Darty03 ieri sera ha scritto, secondo me, rigore per l'Inter e Udero Lopar. Ma che cazzo è che succeda? Udero ne parlo neanche per sbaglio. E oggi l'ho fatto! E Gallopool ha indovinato il 2-1 per noi. Cioè, qui, veramente, iscrivetevi, chiedete loro cose profetiche sulla fine del mondo, su qualunque cosa, su numero di lotteria, quello che volete. Ricordatevi, viva la sub, oltre a quella, iscrivetevi al canale YouTube. Qui sotto c'è... Iscrivetevi, che è importantissimo! Abbiamo vinto con il Inter! Ciao, popolo blu cecchiato!